Musica Allora, Bruno Bancini ha scritto tra i tanti altri libri un libro di poesia che si intitola La Sagra del Peccato, edito nel 2006. La Sagra del Peccato, parte prima. Adesso desidero presentare il nostro accampognatore musicale Domenico Umbro. Presentato dall'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di Ila, Domenico Umbro ha partecipato al Box City di Milano 2017, suonando nell'auditorium del MUDEC, Museo delle Culture, un repertorio di grossa valenza artistica che ha ottenuto calorosi consensi dal pubblico e dalla stampa, ricevendo numerosissime attestate di stima. Anche ora ci delizzerà con alcuni suoi pezzi per Clarinetto Soprano e Flauto Soprano. Domani Umbro. Adesso seguirò un adagio di Paolo Gigiano, poi farò la composizione di Roberto Prandinne, opera 35, e poi un brano di Albinoni per Flauto Soprano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.